Pecchi, siamo fortunati, è il grande danese di Hampstead. Pongo, sta buono, vuoi scatenare tutto il vicinato? Andiamo su, Pongo! Peggy, buona! Andiamo, Pongo! Pongo, vecchio idiota! Su, vieni, torniamo a casa! Che c'è da dichiarare al telegrafo? E Pongo, Regent's Park, è un allarme generale. Cos'è accaduto, cosa dite? Dimmi, Danny, dimmelo, dimmelo! Un momento, un momento! Perbacco! Questo sì che è grave! Cosa, Danny, cosa? 15 cuccioli d'almati rubati! No! Hanno chiamato la politica a scattare gli armi! Gli uomini hanno già fatto il possibile, ora tocca a noi cani! Forza col telegrafo! Darò l'allarme! Forza col telegrafo! Forza col telegrafo! Brissi, vieni dentro. 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 Brissi, vieni dentro.